48 ore di maltempo autunnale hanno colpito la zona nord-occidentale della Toscana, in particolare le province di Pisa, Lucca e Pistoia. La fase più acuta di maltempo è stata raggiunta nella notte tra sabato e domenica quando numerosi temporali hanno investito la costa tra Pisa e Livorno generando locali allagamenti e blackout elettrici fortunatamente temporanei. A Viareggio la passeggiata e l'area della Darsena hanno subito qualche allagamento ma fortunatamente quella che ha attraversato la Versilia non è stata una bomba d'acqua. Sulla costa e sull'immediato entroterra sono caduti dai 50 agli 80 mm di pioggia cumulati importanti ma distribuiti su diverse ore che hanno dato la possibilità al terreno di drenare buona parte dell'acqua. I disagi comunque non sono mancati. Praticamente c'era un 3 cm d'acqua a terra, si navigava più che camminare. Piovuto forte? Molto forte. Pulmini? Abbastanza, tantissimi, anzi no, ha proseguito anche tutta la notte. Tra forte De Marmi e Seravezza i pompieri hanno dovuto verificare la stabilità di alcune linee elettriche. Secondo alcuni testimoni, i cavi dell'alta tensione hanno prodotto preoccupanti scintille a seguito del forte temporale serale. Pioggia forte anche in provincia di Pistoia, soprattutto nell'area di Pescia dove si sono sfiorati 100 mm di pioggia caduta in tutto il fine settimana. A Pracchia, al confine con l'Emilia-Romagna, un grosso masso è caduto sulla ferrovia porrettana provocandone l'interruzione. La lunga fase di maltempo che ha colpito soprattutto la Versilia e la Toscana nord-occidentale sembra conclusa. Le previsioni per la giornata di lunedì mostrano un certo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore sono previste residue e piogge, soprattutto sulla costa centro-meridionale e sull'arcipelago, anche contemporali, a cui si aggiungeranno forti raffiche di vento da est-sud-est, particolarmente forti sull'arcipelago.